Amici sportivi bentornati sul mio canale, io sono Antonio, comunemente mi potete chiamare AntoL99 come il mio nuovo nickname Come ben sapete io la scorsa settimana ho fatto un po' di cambiamenti, dei cambiamenti definitivi Perché come ben sapete da quando ho aperto questo canale avrò cambiato 4 nomi Prima Just Tiger che era il continuo del vecchio canale Da lì sono passato a Calcio e Palermo che era un nome provvisorio, poi il nome definitivo sostanzialmente è stato quello di AntoCalcio AntoCalcio che poi mi è servito fino a poco tempo fa per portare un mix tra il mio nome e il contenuto che portavo Adesso ho deciso di portare solo unicamente il mio nome con l'iniziale del mio cognome e una parte della mia data di nascita Perché ho fatto questa scelta? Beh, semplicemente perché come ho già spiegato anche nella sezione community mi spoglio da quello che è il personaggio Anche se poi alla fine non è che avevo alle spalle un personaggio ma un nickname Un nickname che sì, rappresentava ciò che portavo e in parte anche quello che sono, ovvero come mi chiamo io Allo stesso tempo ho deciso di prendere questa decisione solamente per un discorso Per avere una continuità del nickname, portare avanti ciò che mi piace E infatti AntoL99 non è solamente YouTube ma è anche Twitch e anche TikTok Può solamente variare su che cosa? Su un tratteggiato Quindi alla fine che cosa è che cambia? Niente sostanzialmente, è sempre quel nickname Avevo in mente di fare questa cosa già da parecchio tempo e di creare un progetto molto più importante Soprattutto nel far combaciare e sincronizzare un po' tutti i social, tutte le piattaforme Dove posso essere benissimo seguito e questo mi è servito anche per questo Proprio per farmi un nome un po' su tutte le piattaforme Tant'è che su TikTok ho dovuto cambiare drasticamente il nome di AntoCalcio99 Che comunque è la continuazione di AntoCalcio solamente con l'aggiunta per metà della mia data di nascita In cambiandolo completamente in AntoL99 portando sia calcio che gameplay Quindi variare un po' anche con i contenuti In quel caso ho deciso di farlo perché è una sorta di intermezzo E TikTok mi serve per questo Perché poi su Twitch mi trovate in un'altra maniera Poi inoltre ho un canale Telegram segreto Anche se per chi sa e per chi vede la mia sezione community Sa che c'è già un link a vostra disposizione Per tutti gli sportivi e non sportivi che comunque seguono questo canale O che comunque mi seguono anche sugli altri social Perché l'obiettivo principale per me è proprio questo Farmi un nome su tutte le piattaforme utilizzando solamente un nickname Ovvero cercare in qualche modo di far combaciare tutte le piattaforme in un'unica direzione Non vi nascondo che in parte mi dispiace del fatto di non aver portato avanti il nickname AntoCalcio Però ho portato avanti comunque il logo e ci sono riuscito Ho fatto dei piccoli cambiamenti in merito al banner Che poi in ogni caso il banner lo cambierò sempre Il logo no Il logo ho solamente cambiato un po' sulla saturazione E poi per il resto diciamo l'ho portato avanti anche come formato di PNG Infatti su Twitch lo potete trovare in formato PNG Sul TikTok lo potete trovare in formato PNG Quindi se non mi avete visto è perché ho fatto dei cambiamenti Su cui ci ho lavorato Su cui ci ho pensato parecchio in questi ultimi giorni E onestamente ho detto perché non farlo Perché poi alla fine alla gente Sì ok tu clicchi su una persona perché si chiama AntoCalcio e quindi sai già che porta del calcio Sì va bene Però quello che conta è che alla fine se le persone ci tengono alla tua persona E soprattutto ai tuoi contenuti che sanno come li porti Beh io penso che non si facciano scrupoli a cercare name come AntoL99 su YouTube o su Twitch Parlo di tantissimi argomenti Porto gameplay Porto qualche volta anche calcio Vario Mi piace variare nelle cose E il fatto di non essermi fossilizzato Nell'aver cambiato un paio di cose A me fa solo che piacere Inoltre su YouTube ho intenzione di portare dei nuovi progettini interessanti Magari in collaborazione con altre persone In questo giovedì di questa nuova settimana state vedendo una nuova intro State vedendo un nuovo nickname Anche se purtroppo YouTube non capisco perché mi rinderizza su un altro canale Dove tra l'altro non hai iscritti ma è solo un profilo utente vecchio tipo del 2006 Ma vabbè lasciamo stare Però per il resto questo ragazzi Era solamente un modo per avvisarvi del perché ho cambiato Ho cambiato nuovamente Forse drasticamente Forse questo sarà un fattore positivo Un fattore negativo Non lo so Perché so benissimo che molti utenti si fossilizzano Sul tipo di nickname che ti ritrovi su YouTube E di conseguenza magari non hanno intenzione neanche di cliccarti Perché non sanno che cosa tu tratti Io porto avanti le mie idee Perché non mi sono mai sottratto Poi inoltre sto programmando alcuni video Magari basandomi anche sul tipo di titolo Che ho portato precedentemente Per cercare in qualche modo di farmi un nome Anche solamente parlando di altre squadre O parlando di altri argomenti inerenti al mondo del calcio Non solo sul Palermo Che come ben sapete è la mia squadra del cuore E che la porterò sempre sul mio canale Anche con una certa frequenza Però questo non significa che mi devo solamente fossilizzare Su un solo contenuto calcistico E per i non utenti della mia community E questo è importante perché serve soprattutto per creare legami Per creare magari nuove possibilità ad aprirmi ad altri orizzonti E per ampliare la mia crescita per quanto riguarda la piattaforma YouTube E non solo la piattaforma YouTube Detto questo ragazzi Spero che io abbia attirato la vostra attenzione su questo video Un abbraccio a tutti Grazie mille per averlo guardato E noi ci becchiamo alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi